Mi racconta cos'è questa foto, la prendo eh? Questa è una grande foto, Tamberi è un bambino in confronto. Questa è la mia prima vittoria in Formula 1 ma soprattutto è la prima vittoria di Niki Lauda in Formula 1. Siamo nel 75 a circuito di Harama in Spagna ed è la prima vittoria mia e guardate quanto salto in aria per festeggiare ma soprattutto allora si poteva andare anche se era vietato però te lo permettevano di andare in pista. Ci siamo abbracciati quasi e ci siamo a piangere, io piangevo, lui non me lo ricordo, io piangevo.